Grave incidente che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17 lungo la Flaminia Calcinelli di Colle al Metauro all'altezza dell'autoscuola due ragazzi del posto di 15 e 18 anni erano a bordo dello stesso scooter quando a causa di una distrazione, pare che stessero salutando degli amici al lato della carreggiata hanno urtato nella fanale sinistro un pick up che li precedeva. Per l'impatto lo scooter è finito nell'altra corsia ed è stato investito da un'auto, una Opel Zafira che stava sopraggiungendo dal senso opposto. I due giovani centauri rimasti feriti ma coscienti sono stati trasportati da due leambulanze al Torrette di Ancona. Potrebbero aver riportato diverse fratture sul posto oltre ai sanitari anche la polizia locale e i carabinieri.